Ciao a tutti, volevo aggiornarvi sulle novità relative alla pubblicazione del libro, scendo alla prossima che è questo qui, sono partite le prevendite, stanno cominciando ad arrivare alcune ordini, la differenza rispetto a quanto detto qualche giorno fa è che il preorder tramite Amazon funziona esclusivamente per gli ebook, non so perché, probabilmente Amazon non ha cambiato qualcosa, non c'è mai stato, ma lo sono sognato e invece per i preorder abbiamo deciso di fare un'altra cosetta, abbiamo attivato sul mio shop, poi vi invio qui il link, ve lo faccio vedere, la possibilità di effettuare ugualmente il preorder, ma la differenza rispetto ad Amazon sarà che vi invierò io personalmente le copie con una dedica personalizzata visto che vi sforzerete di comprarlo in anteprima e sarà a mia cura appunto farvelo arrivare se riesco addirittura prima del 13 dicembre, quindi sarete anche agevolati rispetto a chi lo comprerà attraverso Amazon. la novità è che appunto il libro è pronto, stiamo procedendo con l'organizzazione della giornata del 13 dicembre e abbiamo lanciato una call tra le persone che conosciamo anche per effettuare delle presentazioni live la mia intenzione è quella di alcuni amici, non so se potranno partecipare a tutte le date è quella appunto di andare nelle città come si faceva un bel tempo, riempire le librerie, qualche bar quello che capiterà, qualche associazione di 5-6 persone, 10 ovviamente superiore a 2 sarebbe gradito e appunto raccontarvi e raccontarci un po' questa storia quindi l'appello che vi faccio in questo momento è quello appunto di andare sul sito di Coffey sullo shop di William Galt, adesso ve lo faccio vedere in diretta, lo vado a prendere come vi dicevo appunto eccola qui attraverso Coffey potete acquistare direttamente la copia in preordine che vi arriverà a casa autografata con una piccola dedica ovviamente fatta da me adesso siccome qualcuno mi aveva chiesto dell'uscitazione visto che Coffey è in inglese vi faccio vedere come acquistare un libro una volta andati sul mio account che è questo qui coffey.com slash williamgalt slash shop andate appunto nella pagina dello shop se ci siete arrivati in altro modo qui trovate il libro in alto a sinistra cliccate sul libro vi si aprirà una scheda come questa senza modificare nulla basta fare buy now ecco a questo punto ce l'avete nel carrello ovviamente qui lui mi riconosce perché sono un utente loggato ma basterà inserire qui il vostro nome cognome qui il vostro stato d'appartenenza l'indirizzo, la via qui la città qui lo stato o la provincia quindi o la regione o inserite la nazione meglio se inserite la regione qui il vostro codice di avviamento postale e con questi due tasti potete arrivare direttamente poi al pagamento se avete un account paypal basterà cliccare qui se avete una carta di credito o di debito basterà cliccare qui facciamo finta adesso facciamo una prova io metto i miei dati farlocchi giusto per farvi vedere via bla 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 Roma qua ci mettiamo Italia per esempio 00100 faccio carta di debito lui mi sblocca la finestra in modo assolutamente senza creare nessun altro account numero di carta scadenza bla 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 acquista ora a quel punto poi riceverete una mail di conferma come qualsiasi acquisto fatto online è molto semplice purtroppo cofìa in inglese ma è l'unico strumento che abbiamo trovato in questo momento per poter fare un preorder carino basta fare buy now poi lui procederà oppure se volete preordinare la vostra copia in ebook basta andare su amazon cercare carmello di gesero tanto vi uscirà se cercate scendo la prossima lo trovate pure se cercate lì ma la capitale del perù lo trovate pure e anche qui è possibile prenotare con un click cos'altro dire non posso che ringraziarvi ovviamente di questa di questo supporto chiaramente la versione in preorder a noi serve anche un po' per tarare quelle che sono qual è il sentiment diciamo dietro a questo libro e ci servirà anche per migliorare eventuali retinate e probabilmente saranno tante dato che si tratta di un lavoro fatto da me scherzo ovviamente poi Gregorio mi cazzia che dice che sminunisco il libro e basta credo che non ci sia null'altro da dire se non appunto se anche voi volete organizzare un'iniziativa con la mia partecipazione per parlare di questo libro parlare di viaggio parlare di Erasmus parlare di tante altre cose non fate altro che scrivermi e ci organizziamo ciao ci vediamo presto ci sicuramente ci vediamo per il 13 dicembre tanto vi romperò ancora le scatole con questi clip che ci sto prendendo gusto ciao ciao